Ospite quest'oggi nei nostri studi televisivi la dottoressa Ilaria Rossiello con cui parliamo del suo ultimo libro Con il camice a rovescio, uscito proprio nel 2021. Ma innanzitutto Ilaria con te vogliamo parlare del movimento Giotto di cui sei ormai presidente da diversi anni. Questo è un movimento, come dice il nome stesso, e quindi è un'associazione culturale di medicina generale cioè giovani medici di famiglia che si riuniscono, parlano di come migliorare il mondo della sanità per quello che riguarda le cure primarie, tant'è che lunedì saremo in Senato proprio per fare una mozione per migliorare il funzionamento del sistema sanitario nazionale. Il settore sanitario messo a dura crisi durante il periodo pandemico, come è cambiato prima e dopo? È cambiato drasticamente lo scenario e il lavoro di tutti i medici di famiglia come anche dei medici ospedalieri sia in termini di accessibilità, di utilizzo delle risorse, sia in termini organizzativi e questo libro cerca anche di spiegare come funziona l'accesso ai servizi, come è strutturato un servizio sanitario che appunto è nazionale, è pubblico e garantisce la salute alla cittadinanza e l'erogazione delle prestazioni sanitarie, ma è anche un mondo molto complicato e c'è appunto una guida proprio per districarsi nella burocrazia, nei percorsi che sono necessari per accedere a queste prestazioni e quindi per incrementare la salute del singolo e della comunità. Il libro è in realtà rivolto principalmente alla popolazione e infatti il taglio è aneddotico, è romanzato e pieno di scene di vita vissuta che servono proprio per dare delle informazioni che rimangono impresse nella memoria ma anche che semplifichino alcuni concetti che sono importanti per i professionisti ma soprattutto sono importanti per la popolazione. Perché hai deciso di scrivere proprio questo volume? Ho deciso di scrivere questo volume perché ho sia una pagina di divulgazione scientifica ma soprattutto lavorando come medica di famiglia mi trovo a dare informazioni continuamente alla popolazione e a svolgere un ruolo di educazione sanitaria e quindi di accrescere la cultura della popolazione riguardo ai temi che mi competono per aumentare anche la loro capacità di autogestione della malattia e tant'è che nel libro ci sono delle sezioni proprio su come automedicarsi, quali sono i farmaci più comuni e come utilizzarli. Un volume è suddiviso in due parti? Esattamente, una prima parte riguarda alcuni temi più trasversali, più grandi come l'utilizzo delle risorse in termini di ricerca scientifica, il web, come affidarsi alle fonti ma anche tematiche importanti quali la genitorialità, oltre che principali patologie come possono essere l'ipertensione arteriosa, quali sono gli esami che occorre fare nell'arco della vita. In una seconda parte il camice si rovescia e appunto fornisco alcuni dettagli su come gestire autonomamente la propria salute, per esempio anche come fare un triage, quali sono le red flags, quindi i campanellini d'allarme che si devono accendere e indirizzarci a un servizio di pronto soccorso piuttosto che in una situazione differibile alle cure territoriali. Parlavi prima di cultura scientifica, quanto è importante oggi conoscerla a fondo? È fondamentale ed è per questo che ho investito le mie risorse e il mio tempo nella scrittura di questo testo perché penso che per aumentare la conoscenza di una popolazione che quindi comporta un progresso della società, un miglioramento in termini sia politici che organizzativi che proprio di qualità della vita bisogna investire molto sulla divulgazione e sull'informazione per aumentare proprio la capacità di risposta del singolo cittadino e della comunità anche perché appunto in seguito alla pandemia come medici, come sistema stiamo soffrendo molto e quindi ovviamente fare l'empowerment, quindi aumentare le capacità anche della popolazione è una strategia per mirare a un aumento della salute globale. Dove è possibile acquistare con il camice a rovescio? Il libro è disponibile nella libreria del Centro Storico di Tolentino potete anche inviarmi una mail a dottoressa.rossiello.chiocciolagmail.com e ve lo spedirò a casa direttamente. Un ringraziamento speciale va a Marianella Fioravanti che oltre a essere una mia cara amica è la mia collaboratrice di studio e ha realizzato l'impaginamento, la copertina ringrazio anche la mia paziente Nevia Amaolo che è la pittrice che ha realizzato il quadro che è un olio su tela che poi mi ha donato.